E' ora di alzarsi, Natalya. Dovresti far aggiustare l'aria condizionata, Stark. Che succede? Non ne ho idea. Jarvis, sei su di loro? Ci serve un resoconto. La sicurezza esclude la connessione, signore. Aggiornamento tra 40 secondi. Perfetto. Quando si riprende, diciamogli che ha perso altri 80 anni. Cos'è successo? Non ho idea. Il Maggiordomo 5000 sta guardando. Hulk, freddo! Signore, sembra che... Vedi? Ecco perché non possiamo fare le cose come si deve. Aspetta, Jarvis, riavvia modulazione vocale. Tranquillo, ragazzone. Ci stiamo lavorando. Loki! Ehm... no, sono Tony. Ricordi? Insieme siamo gli Avengers. Stretta di mano segreta... Come dicevo, signore, sembra che Loki e i giganti di ghiaccio abbiano brillantemente invaso manate. Ora l'obiettivo dell'attacco è... la torre degli Avengers. Lui qui! I sensori mostrano l'attività dei giganti di ghiaccio nell'edificio con ampia concentrazione attorno al laboratorio. Laboratorio? Che cerca Loki dalla tecnologia Stark? Non sarà nulla di buono, te lo garantisco. Forse dovremmo controllare con lo shield se hanno imparato qualcosa. Temo sia quasi impossibile, signore. La torre degli Avengers usa solo energia secondaria. La comunicazione con l'esterno è stata interrompita. Direi di agire. Hulk può spaccare. Vediamo cosa sanno fare questi folletti. Precisamente si, tenterò di attivare i sistemi di sicurezza mentre lei e il suo team vi dirigete al laboratorio. L'ascensore sembra essersi danneggiato durante l'attacco. Forzandolo dovrebbe sbloccarsi. Prossima fermata in laboratorio. Un altro pezzo di ghiaccio ha impedito la nostra discesa. Una bella spinta dovrebbe bastare. Vai arrivando al livello del laboratorio. I giganti di ghiaccio sono dislocati lungo tutta la torre. Io terrò chiuse le porte finché ogni minaccia verrà sventata. Minaccia sventata. Ha innescato il dispositivo di sicurezza. La protezione del laser è stata attivata. Affetto. Quest'area ha subito un danno strutturato. Questa è 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 un danno strutturato. a nessuno piace qui si vanta ma io non posso farne a meno i giganti di ghiaccio si stanno avvicinando sembra che abbiano scavato un punto i giganti di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio i giganti di ghiaccio danneggiano la torre sconticiti prima che compromettano le nostre risorse minaccia sventata minaccia svento Grazie a tutti Pericolo scampato, accesso in corso Sono scappati attraverso il sistema di ventilazione, procedi con cautela Questo non spaventa C'è quasi riuscito Vedo che sei arrivato al laboratorio I giganti di ghiaccio hanno rimosso il reattore ARC dal fulcro energetico Devi stabilizzare il fulcro energetico finché siamo in tempo Devi alimentare subito il pannello di controllo Non sarai in grado di stabilizzare il fulcro energetico a questo campo di forza Conterrà la carica esplosiva La energia è stata unica Un fulcro stabilizzato con successo Il laboratorio sembra indietro Ma la tecnologia del reattore ARC è stata rimossa Grazie a tutti Grazie a tutti Benvenuti in battaglia Avengers Il gruppetto di bulli di Loki sta portando sconfiglio in città Quindi potresti aiutarci Per accelerare le cose lo SHIELD ti dà il permesso di usare il suo nuovo prototipo di moto Guida la moto fino al punto in cui mi trovo Una volta che lo SHIELD sarà soddisfatto di ciò che stai facendo Potrai tenerla Hai trovato un gettone multiuso Raccoglili tutti per permettere a questo personaggio variabile di entrare in questo mondo E sbloccare missioni esclusive Il radar ti mostrerà cosa c'è intorno a te I puntini gialli indicano gli obiettivi della missione Puoi usare il radar anche per localizzare i suggeritori di missione I nemici e gli oggetti interessanti Visto? Non era così difficile È come portare una bicicletta con un potente motore turbo di prossima generazione Se ti serve un passaggio trova una delle stazioni di trasporto dello SHIELD Verranno a prenderti Ora dovresti aiutare Jarvis a stabilizzare la sicurezza della torre Solo allora potrai andare in battaglia Lo sai? Tutti i giganti di ghiaccio sono stati eliminati dalla torre Ma dobbiamo ripristinare la massima potenza per attivare i sistemi di difesa Localizzi i dispositivi di energia di emergenza disattivati nella torre degli Avengers Ma non è un attività di sicuro È un attivato a prenderlo Ma non è un attivato a prenderlo Quali sono le ferie di fronte Quasi sono le ferie di fronte Maggiore sui Hai trovato una scatola bonus Cerca nel mondo con diversi personaggi per trovarle e aprirle tutte Sì, così Ahaha Oh no Un applauso per Rocket Sì, così È estremamente importante che lei riattivi l'energia che alimenta la torre Oh sì Sì Energia riattivata Attivazione protocollo di sicurezza Stark J5932 Ti va una vera sfida? Giusto l'Avenger che cercavo Pronto a lavorare? Tornati Boi Tornati Prendi